Santa Flavia piange la tragica morte di Walter Sanalitro, un giovane apprezzato da tutti nel popoloso quartiere. Catanissetta scommesse sportive, sequestro preventivo delle insegne e dei marchi di una società. Agricoltura via libera dal governo Schifani alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale. Torna in città la colletta alimentare, mobilitazione di un massiccio numero di volontari per donare la spesa a chi è in difficoltà. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale, in apertura la tragica scomparsa di un giovane di 31 anni residente a Santa Flavia. Sentiamo i particolari. Stamattina la città si è risvegliata con una triste notizia. La morte di un giovane che era stimato e ben voluto nel quartiere Santa Flavia, nella popolosa via Cardinale Dusmet. Walter Sanalitro, 31 anni, è stato trovato privo di vita dagli stessi familiari. Un gesto estremo, il suo, che ha gettato nello sconvorto non solo i parenti, ma il massiccio numero di amici che lo circondava. Ragazzo tranquillo, dal carattere mite, dolce ed educato. A quando pare, negli ultimi tempi, Walter non avrebbe attraversato momenti favorevoli. Una storia sentimentale tra alti e bassi, e poi, come molti coetani e non solo in questa città, era alle prese con il problema della disoccupazione. Walter era rimasto senza lavoro da qualche mese, dopo anni e anni di impegno al servizio di diverse aziende del capoluogo nisseno. I funerali si terranno nel pomeriggio di domani, sabato, alle ore 15, nella chiesa di San Biagio, in via Leone XIII. Controlli dei carabinieri nel vallone. Vediamo il bilancio dell'attività dei militari. Negli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Mussomeli hanno rafforzato il dispositivo di controllo del territorio, anche con l'impiego dei reparti speciali dell'arma. Nel corso dei servizi sono stati verificati 185 atomezzi, elevate nuove contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione, identificate 214 persone. Cinque le perquisizioni personali eseguite al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 7 grammi di hashish, segnalando alla prefettura due soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, ad Acquavivia Platani, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto in ottemperanza all'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica di Caltanissetta, un romeno di 37 anni, riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Mussomeli dal 2015 al 21 dicembre 2019, con sendenza definitiva del 21 ottobre, con cui è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Al termine delle formalità, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta. Infine, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria due soggetti di Milena per furto d'acqua, poiché da verifiche effettuate unitamente alla società di gestione dell'acqua, avrebbero manomesso il condatore idrico, allacciandosi direttamente alla rete, evitando la lettura dei consumi. Scommesse sportive, il provvedimento di sequestro che colpisce una società. Sentiamo i particolari. Le insegne e i marchi ricondugibili alla Stalle Bet Malta, presenti sul territorio italiano, sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di un'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, che prevede anche il divieto temporaneo di esercitare in tutta Italia l'attività di esercizio e raccolta di scommesse sportive. L'operazione di sequestro preventivo eseguita sul territorio nazionale nella nostra provincia ha interessato l'oscuramento di insegne e loghi di 12 attività di esercizio di raccolta scommesse sportive. La divisione Polizia Amministrativa della Questura e il Commissariato di Pubblica e Sicurezza di Gela hanno eseguito il provvedimento rispettivamente nei confronti di tre esercizi operanti a Caltanissetta e tre nel comune di Gela. Analoghi provvedimenti sono stati eseguiti dai militari dell'Arma dei Carabinieri nei comuni di Sera di Falco, Mussomeli, Campofrango, Vallelunca Pratameno, Riesi e Butera, per un totale di sei esercizi di raccolta scommesse. L'ipotesi investigativa all'origine del sequestro. La società Stallebet avrebbe raccolto in Italia scommesse su eventi sportivi e di altro tipo, utilizzando sia proprie sedi che imprese indipendenti, senza alcun titolo concessorio dei monopoli di Stato e senza la prescritta licenza rilasciata dal questore, commettendo il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Il provvedimento cautelare ha lo scopo di far cessare il comportamento ottenuto dai soggetti coinvolti, i quali, pur essendo consapevoli di non poter accettare scommesse, hanno ugualmente proseguito nella loro attività, operando come ricevitoria fisica e continuando a non versare l'imposta unica sulle scommesse. Caltanissetta, agricoltura, via libera dal governo Schifani alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale per i danni causati dalla siccità. Il governo regionale, attento alle emergenze del territorio e vuole dare risposte immediate, soprattutto a una categoria come quella degli agricoltori, quest'anno particolarmente colpita dalle scarse piogge nelle aree di Caltanissetta e Catania. Queste le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, così come si legge dal sito della regione siciliana. I danni per alcuni comparti sono stati ingenti, aggiunge, per questo è stato avviato l'iter per chiedere lo stato di calamità. Si fa riferimento ai danni registrati tra gennaio e luglio alle produzioni agricole, pari a circa 74,5 milioni di euro. Nei comuni di Acquaviva Platani, Bonpensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina, Villarmosa, Sera di Falco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Pratameno e Villalba. Il sito precisa anche che è stata ratificata dall'aggiunta regionale anche la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per la provincia di Catania. Precedentemente approvata si legge con un decreto del presidente. Una notizia che è stata accolta favorevolmente dal territorio nisseno. Diversi infatti commenti a tal proposito, come nel caso del consigliere comunale nisseno nonché capogruppo della Lega Oscar Aiello. Aver accolto le istanze degli agricoltori nisseni che a causa della siccità di quest'anno hanno potuto raccogliere solo due giorni a fronte dei venti dell'anno precedente, sottolinea, è un buon segnale di concreta vicinanza dell'assessore San Martino al comparto agricolo della provincia di Caltanissetta, che aveva bisogno di risposte rapide. Sulla questione abbiamo chiesto il parere anche della col diretti di Caltanissetta. Intanto è un segnale che dà il nuovo governo della regione siciliana, il presidente Schifani dell'assessore San Martino, che ringraziamo per l'attenzione a pochi giorni, due giorni dall'insediamento del nuovo governo, dare un segnale di questo tipo ha un suo valore, è una cosa importante, quindi ne prendiamo atto. Ci aspettiamo naturalmente che poi vengano adottati i provvedimenti conseguenziali a livello nazionale. Abbiamo avuto cali di rese un po' dappertutto, per cui tutti i prodotti, ne faccio un esempio banale, uno di quelli che ha avuto le conseguenze più nefaste, ma anche perché c'è stata una problematica legata al mercato, è stato quello dell'uva da tavola. Ha avuto dei cali di rese, ma poi il prodotto è rimasto invenduto sulla pianta. Ci sono interi areali dove la produzione è diminuita del 15-20%, quindi il danno è stato un danno importante, importante anche in alcuni casi alle piante. Dobbiamo anche dire che la produzione che ne è venuta fuori, per esempio per alcuni settori come l'olivicolo, Marassessa Uo Italia, il vitivinicolo, è una produzione di elevata qualità. Quindi speriamo almeno che in questi campi, visto che per esempio nell'olio c'è almeno il 40% di produzione in meno, a livello nazionale si possano spuntare dei prezzi un po' più alti. Ecco bisogna raccomandare al consumatore di andare a comprare la qualità. Intanto si valutano le soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e le possibili emergenze future. Siamo ormai davanti ad una ripetitività di eventi che abbiamo visto per esempio nel nord hanno portato alla devastazione interiale. Ora se dovessimo pensare che dobbiamo andare a richiedere interventi di soccorso in una situazione di questo genere siamo consapevoli del fatto che purtroppo non potranno arrivare a tutti gli agricoltori italiani. Raccomando sempre di cominciare a pensare che l'attività per esempio assicurativa può essere importante così come le buone pratiche sono importanti. Però è chiaro che siamo sotto il cielo, il clima sta cambiando. Siamo davanti ad una ipotesi di riprogrammazione addirittura dei periodi di ricoltura. Siamo davanti ad un momento importantissimo. Di questo per esempio dibatteremo al prossimo villaggio Valdiretti di Palermo 2, 3, 4 dicembre al quale invito tutti i cittadini. Torna in città la colletta alimentare, un'iniziativa per garantire la spesa anche alle famiglie in difficoltà. Il servizio. Torna la giornata nazionale della colletta alimentare e così anche quest'anno la cittadina Nissena si mobilita grazie all'impegno dei numerosi volontari che accoglieranno le donazioni dei cittadini davanti i diversi punti vendita della città sabato 26 novembre. Anche questa volta infatti oltre ai volontari del Banco Alimentare di Caltanissetta verranno coinvolte parrocchie, associazioni del territorio e anche gli scout. Parliamo di circa 500 volontari che con le varie turnazioni saranno davanti a tutti i punti vendita proprio per la raccolta della giornata nazionale della colletta alimentare. I volontari saranno riconoscibili dalla loro pettorina arancione dove chiederanno alla cittadinanza di poter contribuire con un gesto alimentare che poi sarà destinato alle famiglie bisognose della nostra città e del nostro circondario. Tra i beni più richiesti la pasta ma soprattutto alimenti a lunga scadenza. I beni sono alimenti che abbiano innanzitutto lunga scadenza. Nello specifico quest'anno si chiede molto pasta, olio, latte perché i prezzi sono saliti così tanto che c'è carenza. Non si raccogliono prodotti freschi perché non si ha la possibilità di poterli conservare qui al momento. Tutta la mece che viene raccolta durante la giornata nazionale del giorno 26 per quanto riguarda la nostra città verrà conservato in questo deposito messo a disposizione dalla parrocchia San Marco e già in mesi di dicembre sarà ridistribuito alle famiglie della città di circondare nel nostro banco. Si tratta dunque di un deposito che viene utilizzato in maniera temporanea ma la speranza è quella di trovare una sede fissa per il Banco Alimentare Nisseno. Questo l'appello del responsabile di Caltanissetta Raimondo Messina di ritorno da Catania. Anche lui infatti era presente ieri mattina in occasione della visita dell'arcivescovo di Catania al magazzino del Banco Alimentare intitolato nella stessa giornata insieme agli uffici a due volontari del Banco per onorare la loro memoria. È da anni che noi ci battiamo per avere un deposito qui a Caltanissetta però purtroppo senza risultati. Quindi approfittiamo della colletta alimentare per lanciare l'ennesimo tentativo di poter avere in comodato d'uso un deposito che possa servire per la zona di Caltanissetta e i paesi limitrofi. Per questo deposito avremo bisogno di un copannone almeno di 500 metri che sia accessibile con i tir e che ci sia tanto spazio attorno in modo che i tiri possono avere la possibilità di poter scaricare. Giovedì pomeriggio a Bombenziere si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala consigliare all'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, assassinata per mano mafiosa a Palermo il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. Con lei morirono il magistrato Paolo Borsellino e i poliziotti Walter Eddi Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traine e Vincenzo Limuli. Emanuela Loi, medaglia d'oro al valor civile, fu tra le prime donne della Polizia di Stato adibite in Italia a servizio scorso a restare uccise in servizio. Alla cerimonia, oltre al prefetto di Caltanissetta Chiara Armeni, hanno partecipato autorità civili e militari e per la Polizia di Stato il primo dirigente Michele Emma, in rappresentanza del questore Emanuele Ricifari. Era presente anche una rappresentanza dei volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Calogero-Zucchetto di Caltanissetta. Legambiente chiama raccolto i volontari per un nuovo progetto, i particolari. Tutti possiamo dare una mano, unisciti a noi. È così che Legambiente Caltanissetta rivolge un invito per sabato 19 novembre ai volontari, ma anche a chi vuole semplicemente dare il proprio contributo per realizzare un nuovo progetto in città. Si tratta di un centro di educazione ambientale che verrà creato nelle campagne del Nisseno, in un terreno di circa 1000 metri quadrati, in cui è presente anche una casa e che è stato dato incomodato d'uso gratuito all'Associazione Ambientalista Nissena e che verrà utilizzato anche per accogliere alcuni cani vaganti. È nato da un'esigenza dei canuzzi compagni in strada perché praticamente avevamo delle problematiche per quanto riguarda la collocazione di alcuni cagnolini vaganti che abbiamo ritrovato nel territorio e quindi cercare di trovare degli spazi, ulteriori spazi, per poter mettere in sicurezza questi cani abbandonati. Abbiamo visto le potenzialità di questo posto che anche se è abbandonato e quindi ci stiamo lavorando per renderlo fruibile ai bambini, ai centri, appunto sarà un centro di educazione ambientale perché noi spesso tutte le stati facciamo collaborando col comune anche dei laboratori, dei centri estivi, il che ci darà la possibilità di poter usufruire questo spazio anche per questa funzione. Ovviamente Legambiente è interessata ai temi ambientali, al cambiamento climatico, alla differenziata, a tutto ciò che riguarda il benessere degli animali, quindi diciamo che per noi è un elemento, un punto importante che sarà il fiore all'occhiello di Legambiente e del circolo di Caltanissetta. Siccome c'è parecchio lavoro da fare, tra l'altro i recinti già dei cagnolini sono completi, le coperture sono complete, quindi già accoglie due cagnolini, uno che si chiama Tyson e uno Sirio, un pastore tedesco è un similbeagle con problematiche di lesmania e roba del genere, quindi già accoglie questi due cagnolini, però c'è tanto lavoro per quanto riguarda la messa in sicurezza e la fruibilità di questo posto, quindi qualunque mano d'aiuto di volontari disposti ad aiutarci sicuramente per noi saranno i benvenuti. Si chiama La Collina di Gela, reti e nodi multimediali, il progetto finanziato dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con 2 milioni e 280 mila euro, che doterà il Parco archeologico di Gela di sistemi innovativi e tecnologie avanzate per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. I lavori saranno completati entro la fine del prossimo anno, si legge in una nota. Terzo Museo archeologico della Sicilia, dopo il Salinas di Palermo e il Paolo Orsi di Siracusa, con oltre 5 mila pezzi esposti, documenta la storia di Gela in un arco temporale di oltre 1800 anni, dall'arrivo dei coloni greci fino al Medioevo. Il progetto finanzia anche la realizzazione di opere infrastrutturali come un'area di parcheggio e nuovi sentieri che permettono una migliore fruizione del parco. Sarà realizzata inoltre una passerella che collega Bosco Littorio all'area dell'acropoli. Conoscere e imparare l'arabo, un'iniziativa dell'Associazione alla Casa delle Culture del Volontariato. L'opportunità di imparare nuove lingue e conoscere nuove culture e se in più sono lingue e culture che vengono da paesi totalmente diversi dal nostro, è una doppia opportunità. C'è per questo un corso di arabo a Caltanissetta, alla Casa delle Culture del Volontariato, ideato e realizzato dall'Associazione Iside. 30 ore di incontri ogni giovedì, da due ore ciascuno e i corsisti sono già entusiasti di aver iniziato a intraprendere questo percorso. Ora è rivolto un po' a tutta la popolazione, italiani o anche stranieri. In questo momento abbiamo solamente italiani. È un corso che inizia proprio dalla base, quindi inizieremo dall'alfabeto arabo, ma daremo anche degli accenni di cultura araba e anche araba islamica. Già le prime domande sono arrivate da parte dei corsisti per quanto riguarda la cultura, che è un po' quella che si vede in giro per la città. Per quanto riguarda invece proprio l'alfabeto, i primi casi sono stati dove devo mettere il puntino, sotto o sopra? Me lo ricorderò oppure no. Imparare una nuova lingua consente anche di incontrare nuove culture, conoscerle in modo più approfondito, avere sicuramente più strumenti in una città come Caltanissetta che assume una fisionomia sempre più multiculturale. L'approccio a questa lingua è stata una cosa, diciamo, da me pensata da tempo. Cioè volevo fare questo corso già da parecchio tempo, visto la mia attività lavorativa che mi porta ad avere contatti con il mondo islamico, arabo. E quindi non vedevo l'ora di partecipare a questo corso per far sì di ampliare le conoscenze proprio della lingua. Devo dire che mi sta affascinando tantissimo, anche perché sto scoprendo un mondo nuovo che mi porta ad andare avanti verso questa direzione. Allora io sono rimasta un po' così, il fatto di non esserci vocali, non esserci accendi, apostrofi, di scrivere al contrario. Questa insomma tutta una novità, non lo sapevo onestamente. Tornare tra i banchi è un po' un tuffo nel passato. Comunque è un modo questo per stare un po' più vicino ai nostri alunni, visto che abbiamo diverse domattinie. Per chi vorrà c'è ancora la possibilità di iscriversi all'indirizzo mail Associazione Iside 2017, chiocciolagmail.com. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Martin Luther King di Caltanissetta, guidato dal dirigente scolastico Daniela Rizzotto, quest'anno hanno aderito all'iniziativa nazionale Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, giunta alla nona edizione. Il docente referente Salvatore Sina ha coinvolto i colleghi di varie classi del presso della scuola primaria Michele Abbate, i quali si sono registrati sul sito di Libriamoci, Cepelle e hanno caricato l'evento, descrivendone le caratteristiche e le finalità. Le attività di Libriamoci mettono in primo piano la lettura a voce alta per stimolare al piacere di leggere e coinvolgere gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia e all'estero. Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura. Svelamenti, stagione teatrale e concertistica al Margherita di Caltanissetta, la presentazione degli appuntamenti in programma. Vediamo il servizio. Svelamenti è il titolo della stagione teatrale di Regina Margherita di Caltanissetta che accende le sue luci ed apre il sipario con nove spettacoli teatrali, sei concerti gratuiti ogni lunedì. È una rassegna fuori abbonamento destinata alle famiglie e ai ragazzi, anche con agevolazioni per gli abbonamenti. Questa rassegna teatrale che gode della presenza anche dell'Istituto Musicale Bellini, quindi è una stagione teatrale e musicale, si intitola Svelamenti proprio perché vogliamo puntare un po' l'attenzione su quelli che sono i rapporti tra gli uomini, tra le persone che in questo periodo a seguito del Covid, così come anche per quello che rappresenta oggi la nostra società, spesso vengono trascurati perché entriamo in relazione con gli altri dietro uno schermo. Abbiamo voluto compiere una scelta sia degli spettacoli teatrali sia dei concerti, cercando di mettere in risalto l'importanza della relazione che le persone hanno tra di loro e quindi abbiamo pensato proprio all'atto dello svelamento del sé quando noi incontriamo altre persone nel nostro cammino e questo avviene quotidianamente. Quindi gli spettacoli indagheranno i rapporti. La frase che abbiamo scelto come simbolo di questa stagione teatrale è tratta proprio dal primo spettacolo che vedrà protagonista Giorgio Pasotti insieme a Mariangela D'Abraccio. La direzione è quella di riavvicinare il pubblico, nissano e non, al teatro della cultura. È proprio la cultura che sarà la base di un sistema di gestione e condivisione, come detto dal primo cittadino durante la conferenza, che sarà una leva per il centro storico attraverso la cultura, l'arte e l'università. La stagione 2022-2023 vede la partnership del Conservatorio Bellini e del Comune, una stagione duale programmata di concerto per consentire una maggiore offerta ed un processo di conoscenza accademica della musica colta permettendo a tutti di godere delle musiche di Mozart, Vivaldi ma non solo. La progettualità è un unico sentire artistico con il Comune di Cazzanissetta in continuità con altre manifestazioni che abbiamo già svolto in passato e nell'immediato passato quindi il Pietra Rossa Bellini Music Festival. Rispetto a queste altre iniziative che sono state rivolte a un pubblico più colto anche perché abbiamo avuto artisti di caratura internazionale abbiamo coniugato un percorso più fruibile per la popolazione. Innanzitutto è un percorso gratuito per cui tutti i sei concerti sono assolutamente gratuiti quindi il pubblico può semplicemente prenotare il posto per avere garantita chiaramente la posizione in sala e sono di un repertorio assolutamente fruibile per tutte le fasce della popolazione e di tutte le età. Abbiamo per esempio, apriamo con il concerto di Natale quindi che sono dei flauti e cantanti e avremo il recital di pianoforte quindi avremo le quattro stagioni di Vivaldi e qui questa è una provocazione perché abbiamo inteso accompagnare le quattro stagioni di Vivaldi peraltro eseguite come primo violino da Ranfaldi che è il primo violino dell'orchestra della RAI che alternerà ogni stagione con una voce narrante che racconterà con una voce siciliana quella che era la vita della Sicilia al tempo della scrittura delle quattro stagioni. Ed infine il direttore del Conservatorio Bellini, Michele Mosa sottolinea quanto il territorio di Caltanissetta sia molto sensibile e colto alla musica e che questa stagione sarà quella del ritorno ai concerti in teatro per potenziare la sensibilizzazione verso la musica. Sabato 19 alle 16 nella sede Nissena dei convegni di cultura Beata Maria Cristina di Savoia in Via Libertà 78 si terrà un incontro dal titolo Parole e Musica, talenti di Dio. Introduzione di Franca Carapezza, riflessione sul tema di Don Calogero, pane pinto. Spazio anche alla lettura di alcune poesie e interventi musicali. Il prossimo appuntamento a dicembre con la visita al precepe settecentesco custodito all'Istituto Testa Secca. Fervono i preparativi per l'iniziativa Betlemme agli Angeli. I particolari. Ancora una volta le stradine che attraversano il quartiere arabo e che costeggiano le diverse case caratteristiche presenti verranno attraversate dai numerosi visitatori che arriveranno per ammirare la Sacra Famiglia e osservare i mestieri tradizionali rappresentati dalle circa 40 persone coinvolte. Un'atmosfera di grande devozione avvolgerà il quartiere nel periodo natalizio grazie al presepe vivente Betlemme agli Angeli. Gli animatori del presepe sono proprio le persone che vivono non solo in questo territorio ma che vivono anche un cammino di fede, di speranza, di amicizia nella parrocchia San Domenico in Caltanissetta. La dodicesima edizione. Per due anni abbiamo interrotto il nostro cammino, la nostra esperienza per la pandemia e riprendere quest'anno è piuttosto complesso perché ci sono ancora tante difficoltà e legate per esempio agli elevatissimi costi dalle bollette ai prodotti che generalmente si gustano all'interno del presepe. Però noi affrontiamo con tanta gioia e con tanto entusiasmo questa esperienza perché ci sono fondamentalmente due protagonisti in ogni presepe. Uno è il Signore, l'Emmanuele, il Dio con noi e lui è al centro di tutto, è lui che ci dà la luce e la forza per affrontare le difficoltà. E l'altro grande protagonista è una comunità è una comunità viva che vuole vivere, vuole far rivivere anche le bellezze di questa parte antica della nostra città. Intanto è già iniziata la fase di preparazione prevedendo anche qualche novità. Abbiamo già iniziato in realtà qualche settimana qualche mesetto fa e in questo momento stiamo facendo degli interventi all'interno delle varie postazioni ripeto, abbandonate per tanto tempo che devono essere riprese, pulite insomma. E poi ci stiamo organizzando per tutta quella che è la parte direi burocratica e coinvolgendo vari enti e varie realtà che sono e saranno presenti all'interno del nostro presepe. E c'è anche una preparazione direi spirituale per cui abbiamo vissuto dei momenti di fraternità e di preghiera perché per me è molto importante che questo presepe non è una sagra o una festa che sono in realtà belle e importanti ma da fare nei luoghi e nei tempi e nei modi giusti ma è un'esperienza che ci aiuta a crescere nella relazione con Dio e fra di noi. L'ingresso dal Vicolo Cardella permetterà di accogliere i visitatori di Betlemma e gli angeli nella notte del 24 dicembre in occasione della benedizione del presepe e poi il 26, 28 e 30 dicembre 5 e 6 gennaio dalle 18 e 30 alle 21 e 30. Ogni sera l'arrivo della Sacra Famiglia accompagnata dai centurioni dal parroco di San Domenico per un momento di preghiera scandirà l'apertura del presepe mentre il 6 gennaio si prevede anche l'arrivo dei Maggi dopo un breve percorso tra le vie del centro storico. E passiamo allo sport la B2 femminile di volley Alba Verde-Caltanissetta-Comiso sabato alle 18 al Palacannizzaro. Allenamenti con vista partita per l'Alba Verde che sabato pomeriggio alle ore 18 al Palacannizzaro sarà impegnata nel match della settima giornata di campionato contro l'Ardenz-Comiso nel primo dei due turni consecutivi casalinghi previsti del girone di andata della serie B2-Girone M. Ospite delle Nissene sarà appunto l'Ardenz-Comiso in una gara che è quasi diventata un classico in questa serie. Le Nissene, galvanizzate dal successo di Santo Stefano di Camastra dove hanno totalizzato il quinto 3-0 stagionale su sei gare disputate mirano a proseguire la striscia positiva casalinga che dura da un anno ultima sconfitta il 13 novembre 2021 contro il Caffè Trinca e a mantenere la vetta della classifica dove vi è una dura concorrenza con quattro formazioni nel giro di un punto. L'Alba Verde dopo sei giornate si trova infatti a pari punti in testa della classifica con Sensation Profumeria e Pallavolo Crotone. Sulla carta, per la formazione allenata dal duo Scollo-Gotte si tratta di un avversario abbordabile ma il vero rischio è quello di prendere sotto gamba la gara. Giochiamo contro Comiso che è una squadra momentaneamente sprovvista diciamo di punteggio nel senso che per ora si trova nella parte bassa della classifica però quest'anno abbiamo imparato che rispetto all'anno scorso soprattutto è un campionato molto competitivo quindi nessuno ci sta a perdere quindi diciamo le aspettiamo agguerrite. Questa settimana stiamo lavorando tanto tecnicamente, tatticamente comunque non bisogna sottovalutare nessuno. L'obiettivo lo sappiamo la classifica ovviamente ci vede nella prima posizione insieme alle altre squadre quindi sicuramente l'obiettivo è importante non diciamo nulla per scaramanzia però si spera di poter rimanere in alto e vedere un po' come va perché comunque sono dell'idea che per vincere un campionato ci vogliono tanti aspetti come la fortuna, la salute e soprattutto l'essere uniti come squadra questa è la chiave per provare a vincere un campionato. Ci aspetta una partita dove dobbiamo confermare il rendimento di queste ultime giornate e dove è importante continuare a vincere continuare a giocare bene e continuare appunto una scia che è iniziata da due partite. E adesso andiamo al calcio in Serie D domenica San Cataldese impegnata al Valentino Mazzola contro il Licata in un derby che si preannuncia tirato e combattuto tra due squadre a caccia di punti pesanti. Il quadro completo delle partite della dodicesima giornata nel Gironei prevede gli incontri Canicattì Mariglianese Castrovilla-Ritrapani Agirreale-Vibonese Sant'Agata-Paternò Cittanova-Locri Lamezia-Catania Santa Maria-Ragusa Realaversa-San Luca e appunto San Cataldese-Licata. E restando nel calcio andiamo in eccellenza archiviato il pari Casalingo-Collenna la Nissa affronterà in trasferta una delle squadre più forti del Girone A la Don Carlo-Misilmeri. Andiamo a vedere il quadro delle partite in programma per l'undicesima giornata. Cus Palermo-Oratorio-Marineo Castellammare-Parmonval Enna-Casteldaccia Leonfortese-Sciacca Gela-Acragas Resuttana-Mazzara Don Carlo-Nissa Mazzarese-Profavara Bene, per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che attenzione vedrà arrivare una nuova perturbazione sull'Italia e questa perturbazione genererà anche un centro di bassa pressione proprio sul Mediterraneo centrale e le regioni maggiormente interessate saranno quelle del centro-sud. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità sull'Italia con questa nuova perturbazione appunto che arriva e porterà nuvolosità estesa e insistente soprattutto nel centro-Italia ma l'ambito anche il sud dove col passare delle ore il tempo tenderà nuovamente a peggiorare. Per quanto riguarda le precipitazioni inizialmente pioggia e acquazzoni interesseranno soprattutto la Sardegna e il centro-Italia l'ambita anche l'Emilia-Romagna e il Basso Veneto però col passare delle ore come vi dicevo le piogge si sposteranno anche verso le regioni meridionali quindi in definitiva ci attendo un sabato che al nord tutto sommato sarà discreto non mancheranno anche ampie scherite però diciamo in Emilia-Romagna sul Basso Veneto anche sull'estremo Levante Ligure qualche piovasco sarà possibile. Nel centro-Italia invece rapido peggioramento sin dal mattino anche in Sardegna con il ritorno di pioggia e acquazzoni forse anche qualche temporale sul Tirreno attenzione e poi col passare delle ore tempo in peggioramento anche al sud anche se l'inizio della giornata sul Basso Adriatico e sullo Ionio regalerà ancora qualche scherita attenzione anche al vento che soffrerà sostenuto nelle regioni centro-meridionali. Per tutta Italia a questo punto sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno Del Poggio Viale Luigi Monaco Del Poggio Corso Vittorio Emanuele